La semifinale tra Urbe Tevere e Savio sorride ai gialloblu che la spuntano ai calci di rigore. I blues si portano avanti ad inizio ripresa con la rete di Pascariello ma poi l'Urbe rimanda ogni verdetto ai tiri dal dischetto. Con Di Francesco si rende in più occasioni pericoloso il Savio, prima con questo diagonale di Mancini, poi De Lorenzo poco più tardi ha l'opportunità di calciare da fuori di poco alta la sua conclusione. Risponde l'Urbe Tevere, discesa sull'out di sinistra di Capitan Mariani che poi mette questo pallone in mezzo. Trova Concetti ma cicca la conclusione il numero 9, ancora quindi il Savio a farsi vedere in avanti. Occasione anche per Nuovo che va a colpire questo cross di testa mettendo il pallone sul fondo. Poi poco più tardi arriva il suggerimento di Pascariello per Guidi che con il tacco manca di pochissimo. Il bersaglio ancora Pascariello protagonista poco più tardi con questo intervento su di lui da parte di Mastrangelo ma lascia correre l'arbitro tra le proteste. Ad inizio secondo tempo l'Urbe Tevere va sotto, guadagna fallo Pascariello, poi palla in mezzo, arriva proprio al numero 10 che stoppa e calcia infilando Mastrangelo e firmando l'1-0 per i suoi. Ispirato Pascariello continua a creare occasioni ma ne spreca una gigantesca. Poco più tardi con questo pallone che gli arriva in era di rigore ci mette un po' troppo a caricare il tiro. Si fa murare la conclusione da Mastrangelo, l'azione continua e termina con il palo di Guidi che con il mancino va a scheggiare il legno. Ancora un calcio d'angolo poi per il Savio va a colpire di testa De Lorenzo, palla fuori. L'Urbe Tevere alza i giri, una grande azione che termina con il tiro al volo di Coccia, ben controllato però dal portiere Innocenti. E poi verso il finale di gara appunto c'è questo fallo dubbio su Orlandi. Va dal dischetto di Francesco che conta i passi, guarda Innocenti, poi prende la rincorsa e non sbaglia, riesce ad intuire il portiere del Savio ma non basta, è 1-1 quando siamo appunto arrivati quasi al novantesimo. Quindi verso il triplice fischio c'è un'ultima opportunità dell'Urbe Tevere che reclama però un calcio di rigore per questo intervento su Befaro, lascia correre però il direttore di gara. Si arriva quindi ai calci di rigore, resta in campo la formazione di Mister Mussoni mentre Bolic chiama i suoi negli spogliatoi per organizzarsi. Il primo a presentarsi dagli 11 metri è Di Francesco che non sbaglia, va quindi a calciare per i blues Felizzola che si fa parare la conclusione. Il classe 2007 di Vico riesce a portare i suoi sul più due, calcia esposito e calcia male, calcia alto lasciando il 2-0 all'Urbe. Sbaglia però anche Ferretti che mette il pallone all'incrocio dei pali, poi De Lorenzo riesce quindi ad accorciare le distanze. Si presenta sul dischetto anche Coccia che riesce a spiazzare Innocenti. Quindi per il Savio calcia Mancini, traversa e gol. Befaro si incarica della battuta dell'ultimo calcio di rigore, quello decisivo guarda il portiere e poi scarica un Mancino potente alla sua sinistra. è l'Urbe Tevere a festeggiare la vittoria in semifinale. I ragazzi di Mister Mussoni andranno a giocarsi il titolo Elite contro la Vigor Perconti il prossimo 21 maggio.